Nonostante il mare del Salernitano presenti il maggior numero di punti inquinati, il mare del Cilento si conferma tra le aree più sane, con le acque più pulite e prive di inquinamento. La testimonianza arriva dagli ultimi dati presentati da Lega Ambiente e riferiti al progetto di Goletta Verde, che sui 32 punti di campionamento ben 13 sono risultati gravemente inquinati e altri due fanno registrare una criticità di inquinamento con livello arancione. Tra questi ben 9 sono stati individuati nel Salernitano, ma ciò che conta è che i 4 punti soggetti ad analisi del mare del Cilento hanno ottenuto tutti il bollino verde che conferma la salubrità delle acque, un risultato eccezionale per il mare Cilentano che di conseguenza si conferma tra le coste più attrattive anche per ciò che riguarda il mare pulito. I campionamenti hanno riguardato ben 4 punti dei territori che rientrano nell'area protetta del Parco Nazionale Cilento-Vallo di Diana al Burni, ossia la voce del fiume Testene ad Agropoli, la spiaggia posta di fronte alla foce del rio Arena tra Castellabate e Monte Corrice, l'area della spiaggia posta nelle vicinanze di rio Cacafava nella frazione di Villa Mare a Vibonati. 4 aree particolarmente delicate e che sono sottoposte spesso a monitoraggio, essendo più soggette al rischio inquinamento, un rischio che però, secondo le ultime analisi effettuate da Golletta Verde e a seguito anche della pubblicazione dei dati, accertano la salubrità delle acque del mare del Cilento, mentre, secondo quanto emerge, le più grosse criticità arrivano a Marina di Eboli. Una lieve criticità è stata individuata solo a Capaccio Pestum, dove la foce di Capofiume risulta inquinata, anche se con livello di criticità moderato.